E' un peso importante perché ridanno entusiasmo sicuramente alla squadra, ne aveva bisogno, anche se è una squadra che si è applicata sempre, ha saputo reagire, questa è una qualità importante. Poi mi auguro che attraverso queste prestazioni riusciamo a far tornare un po' di amore del pubblico verso questi ragazzi e per noi è il primo obiettivo. Sì, questo l'avevamo già evidenziato anche nelle partite precedenti, anche se poi abbiamo pagato nel finale qualche episodio. Devo dire che oggi l'abbiamo confermata e a questo abbiamo aggiunto anche finalmente un'incisività che è dovuta alla prestazione di Miccoli, però anche un miglioramento generale. Sì, mentalità devo dire di sì perché al primo tempo era difficile, c'era anche un po' di fatica, invece al secondo tempo siamo riusciti a migliorare la qualità del nostro gioco. Abbiamo già dei buoni riferimenti, questo è importante ed è un merito anche dell'applicazione dei ragazzi. Poi Miccoli è chiaro che ci può dare un valore aggiunto, però globalmente devo dire che la squadra sta rispondendo bene. La classifica è molto corta, non fa testo, bisogna veramente in questo momento giocare per partita, però dobbiamo fare affidamento sul nostro gioco.